Il post pandemia e la guerra in Ucraina non sono oggi gli unici problemi che rendono incerto il nostro futuro. Altre questioni suscitano timore e richiedono attenzione. Parliamo di cambiamenti climatici, transizione demografica e nuove tecnologie. Cosa aspettarsi quindi dal Salento nei prossimi anni? La Fondazione di Comunità del Salento ha posto l'accento su questi argomenti presentando il documento politico programmatico 2023-2024 che invita a riflettere sul Salento di oggi e a non farsi trovare impreparati davanti alle sfide che il futuro ci pone. Un vero e proprio appello. Chiamare a raccolta tutte le forze sane del Salento per costruire insieme un Salento meno preoccupante di quello che certe immagini, certe tendenze lasciano presagire. Stiamo cercando appunto di rilanciare l'idea di un ente filantropico che sostenga lo sviluppo anche sociale del territorio. Proprio sull'aspetto sociale è stata poi aperta una parentesi importante. Non dobbiamo dimenticare che anche nel nostro Salento negli ultimi anni è fortemente cresciuta la comunità dei poveri, non solo dei poveri in regime di povertà relativa, ma anche e soprattutto quello dei poveri in regime di povertà assoluta. Per questo all'interno del nostro documento trattiamo il grande tema della coesione. Guardare al futuro significa guardare ai possibili effetti devastanti dei cambiamenti climatici su agricoltura e turismo, per esempio quali settori trainanti dell'economia. Il progressivo invecchiamento della popolazione poi è preoccupante soprattutto nel mezzogiorno, viste le stime dell'Istat che prevedono ancora una riduzione della popolazione di circa 4 milioni di persone nei prossimi 20 anni e infine le certezze sugli impianti delle nuove tecnologie nelle nostre vite e soprattutto in quelle delle nuove generazioni. Una nuova casa perché si renda visibile, perché sul territorio ci sia questo segno tangibile di fondazione di comunità del Salento che ha espresso però anche impresa sociale sviluppo Salento. 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 Grazie a tutti.